Qui siamo in presenza di un'azienda che ha gravi problemi economici e di natura anche di liquidità e pensa di risolvere queste problematiche cercando di individuare una sostenibilità di impresa scaricando tutto quanto su una riduzione dei costi in merito alla forza lavoro. Incracceranno così le braccia domani i lavoratori della Comnet, otto ore di sciopero, un presidio davanti allo stabilimento nell'area alla periferia di Arezzo a seguito dell'avvio formale della procedura d'affitto di un ramo d'azienda. Un affitto e non di un'acquisizione per cui già di per sé un'operazione che destra delle perplessità partendo da un'azienda che è stata acquisita di recente dalla Holding che è proprietaria di Comnet la quale quest'ultima azienda di fatto è quest'ultima che va a rilevare in affitto la Comnet. Per cui diciamo già le premesse di partenza ci lasciano una serie di perplessità e criticità in merito a una debolezza, una fragilità della situazione non ultima che ribadiamo fermamente e quella della condizione economica di solidità di questa azienda non offre garanzie perché è molto traballante. Le ricordiamo che questa è un'azienda importantissima perché si occupa di un settore strategico come quello delle telecomuniazioni e dell'energia, per cui di fatto è proprio strategica nell'importanza del ruolo che svolge e come appalto indotto di principali committenti controllati appunto dal governo e sono Telecom, Enel, per cui parliamo proprio di settori strutturali assolutamente importanti e strategici per il nostro paese. I sindacati avevano già avviato una mobilitazione presso il ministero finalizzata all'apertura di un tavolo specifico del settore delle telecomunicazioni. L'azienda pensa di far questa fuga in avanti, anzi è supportarci in quel percorso, fa un'operazione in quale si va a battere notevolmente il costo della forza lavoro pensando in questo modo, in maniera maldestra, di trovare sulla pelle ai lavoratori la propria sostenibilità economica ed equilibrio dei conti. Ovvio che noi questa roba non possiamo condividere e ci opporremo fermamente in tutte le sedi opportune.